bottiglie esplosive alla lubic confessano tre ragazzini polveri sottili a pesaro 19 sforamenti nel 2021 risintonizzazione tv i consigli dell'esperto un 14enne rappresenterà pesaro ai mondiali di vela ital service parte l'assalto alla coppa italia buona serata a quello che state guardando è il telegiornale di rossini tv rossini tv con sede a pesaro emittente visibile in tutta la regione marche ci occupiamo prevalentemente della provincia di pesaro urbino e questa sera in apertura torniamo a parlare dell'episodio delle bottiglie fatte esplodere davanti alla scuola chiara lubic episodio che vi abbiamo raccontato ieri e sul quale ora sono stati individuati i responsabili non pensavamo arrivasse la polizia per aver fatto esplodere due bottigliette e questa la frase pronunciata da tre ragazzini fra gli 11 e i 13 anni che ieri sera hanno confessato di essere i responsabili della deflagrazione delle due bottiglie esplose lunedì pomeriggio di fronte alla scuola primaria lubic di vianitti in zona pantano frase che trasuda una allarmante ingenuità per un'azione che ha gettato allarme e panico fra personale scolastico famiglie degli alunni e che per puro caso non ha avuto conseguenze sulla incolumità dei bambini usciti dall'istituto a pochi minuti di distanza dalle esplosioni i ragazzini in quanto minori di 14 anni non sono imputabili hanno confessato di fronte agli inquirenti alla presenza dei genitori del tutto inconsapevoli della premeditazione del gesto i ragazzini hanno infatto riempito le bottiglie di un pericoloso acido muriatico mescolato ad alluminio perché come hanno spiegato su youtube hanno visto la procedura e la reazione e volevano replicarle hanno acquistato l'acido e hanno procurato l'esplosione davanti alla scuola semplicemente perché era un luogo che potevano osservare dalla stessa strada in cui abitano insomma è andata come presumeva la vicepreside renata porta che avevamo ascoltato ieri forse potrebbe essere stata anche una cosa che voleva essere una specie di brutto scherzo e che invece non si è pensato potessi avere delle conseguenze peccato che quei brutti scherzi ad opera di bambini continuino a moltiplicarsi appena due giorni prima altri coetanei avevano infatti dato fuoco ai già digenezzanti sulle panchine della chiesa di villa san martino il penultimo episodio di una sempre più lunga serie di preoccupante disagio generazionale la regione ha deliberato un finanziamento di 15 milioni di euro come pacchetto di misure urgenti per il sostegno delle imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla guerra tra russia e ucraina misure illustrate oggi in videoconferenza fra il presidente acquaroli gli assessori carloni e castelli e tutte le associazioni di categoria regionali il pacchetto di interventi prevede il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese interventi per compensare le perdite di fatturato e i maggiori costi delle materie prime agevolazioni per diversificare i mercati di esportazione e aiuti per riorganizzare la produzione e vendita di prodotti e proprio nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo parlato dell'ufficialità del ripristino del punto nascite all'ospedale di pesaro a partire dal mese di ottobre oggi approfondiamo ancora queste dinamiche politiche di questa apertura con l'intervista al consigliere regionale nicola baiocchi è stato un impegno importante che ho preso con la mia città ma con l'intera provincia e l'anticipazione da parte dell'assessore saltabartini la settimana scorsa era stata sicuramente molto importante ma aspettavamo una certificazione come dici tu del consiglio regionale questa è venuta ieri con l'interrogazione è stata proposta dalla mia interrogazione proposta insieme anche a quella della minoranza e l'assessore ha confermato fine settembre inizio d'ottobre che il tempo necessario per eseguire dei lavori al reparto materno infantile è un risultato molto importante perché la vecchia amministrazione per esigenze di riorganizzazione aveva deciso di chiudere questo reparto un reparto importantissimo fatto di eccellenze di medici ostetriche di tutto ciò che ruota intorno a questo mondo e quindi noi eravamo molto contenti di cercare di riprendere lo prima possibile ci sono delle esigenze tecniche che devono essere sicuramente rispettate per i lavori ma siamo assolutamente contenti e fiduciosi che tutto ciò possa avvenire nei tempi prestabiliti ecco hai citato la minoranza che ha rilanciato anche sul pronto soccorso pediatrico magari poter anticipare qualcosa su questo fronte un percorso attuabile è un percorso che sicuramente da verificare noi chiaramente non possiamo che sostenere sostenere questa questa richiesta mi dispiace che si cerchi ogni volta di trovare sempre una situazione per non essere contenti ogni tanto bisogna anche essere contenti delle cose che si ottengono anche da parte di altri di altri consiglieri perché sono fatte solo in esclusivo interesse della città purtroppo la vecchia amministrazione aveva chiuso questo reparto in un'interrogazione anche questo mi pare molto opportuno specificarlo perché quello che è stato espresso dalla consigliera Vitri anche ieri e anche oggi su alcuni quotidiani è assolutamente falso perché la precedente amministrazione proprio a seguito di un'interrogazione proposta dal consigliere Biancani l'assessore allora Loretta Bravi disse in maniera molto chiara che non c'era assoluta nessuna certezza di riapertura del reparto materno infantile quindi smettiamo di fare polemica su ogni cosa apprezziamo quello che questa amministrazione ha fatto e che l'assessore Salta Martini e l'Aggiunta Corolli ha fatto anche con il piccolo impegno del sottoscritto quindi andiamo avanti su cose molto importanti all'interesse della città e meno polemiche ed ora parliamo di ambiente infatti nel 2021 la città di Pesaro ha sforato per 19 giorni i limiti consentiti di inquinamento da polveri sottili una delicata tematica ambientale della qualità dell'aria che respiriamo che sarà poi anche approfondita venerdì da un webinar promosso dall'Ego Ambiente Marche noi torniamo con questa iniziativa a voler parlare appunto dell'inquinamento più in generale e dell'inquinamento atmosferico in particolare perché ogni anno l'Ego Ambiente raccoglie tutti i dati dalle centraline delle varie città quest'anno abbiamo toccato 12 centri importanti del nostro paese e abbiamo valutato i dati di 238 centraline. Che cosa viene fuori? Purtroppo viene fuori che nonostante vi sia stato negli anni un piccolo miglioramento per quanto riguarda l'inquinamento ambientale siamo ancora troppo lontani da quelle che sono invece state fissate le norme che fissano appunto i limiti di questo inquinamento in particolare abbiamo visto che in molte città del nord si supera di gran lunga il limite appunto legislativo ma anche nelle città del centro e del sud purtroppo c'è questa situazione compresa appunto la nostra Pesaro che per esempio per il 2021 ha sforato per ben 19 giorni il limite massimo consentito per le polveri sottili che sono quelle più diciamo quelle più nocive per la salute nonostante la centralina Pesaro sia posizionata in un parco che è il parco Scalpellini quindi questo ci impone un ragionamento sull'inquinamento atmosferico molto importante e soprattutto ci impone a tutti compreso ovviamente i cittadini ma soprattutto gli amministratori comunali regionali e il governo centrale a fare scelte veloci determinate in direzione proprio di una modifica proprio di questo ambiente soprattutto in direzione di che cosa di quello che inquina di più lo sappiamo benissimo quello che inquina di più oggi sono i carburanti quindi le energie fossili noi dobbiamo passare dal fossile alle energie pulite cioè alle energie rinnovabili purtroppo se ne è parlato soltanto in questo ultimo periodo delle energie rinnovabili con un certo vigore perché perché sono arrivate delle bollette salatissime a livello locale noi appunto abbiamo indetto questo webinar per innanzitutto con l'ARPAM regionale parteciperà il dottor Giorgio Catenacci che ci diciamo esporrà tutti i dati della regione Marche relativamente all'inquinamento ambientale poi ci sarà la Donatella Fava la dottoressa che è un'esperta appunto in medicina ambientale che ci spiegherà quali sono gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini e a questo proposito ci sarà Gloria Nicolini che ci potrà siccome un'esperta anche lei per quanto riguarda l'ambiente cioè gli ambienti chiusi ci potrà suggerire delle tecniche per ridurre questo inquinamento anche all'interno delle abitazioni degli uffici delle scuole cioè laddove noi praticamente operiamo tutti i giorni il presidente regionale di Lega Ambiente il dottor Marco Ciarulli ci farà invece una panoramica più generale su quelle che sono le proposte che Lega Ambiente ha lanciato sia nei confronti del governo che nei confronti della regione Marche e dei comuni della nostra regione per modificare e migliorare questa situazione. Ebbene da una settimana Rossini TV è passata al canale 80 una transizione che passa attraverso la risintonizzazione della televisione si tratta di una procedura che talvolta però può risultare complicata e differente a seconda del tipo di televisore che si ha in casa e allora abbiamo deciso per aiutarvi a procedere con questa risintonizzazione di intervistare uno dei maggiori centri di assistenza della città di Pesaro per darvi alcuni consigli. Marzo è mese di switch off di cambio di canali televisivi di cambio di frequenze la stessa Rossini TV della scorsa settimana ha abbandonato il canale 633 per il canale 80 un passaggio in alcuni casi automatico, un passaggio in molti altri casi che necessita di una risintonizzazione, risintonizzazione che a volte può dare problemi e allora oggi abbiamo chiesto il parere degli esperti del centro assistenza Giorgio Giacomini di Via Milano per fornirvi una guida in questa procedura. Affrontiamo quelli che possono essere gli scenari più comuni che principalmente possiamo resumere in tre, quindi clienti che hanno vecchi televisori per niente compatibili con il digitale terrestre che quindi hanno bisogno di acquistare un decoder esterno, clienti che hanno invece un televisore che è parzialmente compatibile o totalmente compatibile che quindi oggi può essere riutilizzato ma in alcuni casi può aver bisogno anche del decoder esterno perché ad oggi la transizione non è stata completata in toto e quindi adesso vi spiegheremo come eventualmente collegare, riconoscere e vedere qual è il canale che vi permette di capire se il vostro televisore è completamente compatibile con tutti i canali del digitale terrestre. Possiamo esaminare il primo caso di un televisore che è compatibile con i segnali e quindi in questo caso noi dobbiamo semplicemente effettuare una risintonizzazione dei canali. I menu sono più o meno simili su tutte le marche dei televisori però presentano delle piccole diversità. Comunque questo ad esempio è un Samsung, Samsung è una delle marche più diffuse qui a Pesaro e entrando col tasto menu nell'opzione di trasmissione abbiamo la sintonizzazione automatica. Questa procedura permette grazie a un'impostazione che si chiama LCN che è una numerazione automatica in base a una linea guida nazionale di far fare la ricerca automatica dei canali al televisore e di andare a impostare in maniera automatica con la sequenza che c'è in tutta Italia tutti i canali. Quindi andando su sintonizzazione automatica, ok, abbiamo l'opzione di sintonizzazione automatica, diamo l'avvio e il nostro televisore, infatti li vediamo, ordinamento canali, ordinamento automatico, parte in ricerca e va automaticamente a effettuare la scansione, la ricerca e va a trovare tutti i canali disponibili sul nostro impianto d'antenna. Esaminiamo adesso il secondo caso, un caso di un cliente che abbia un televisore schermo piatto che ha intorno agli 8-10 anni che ancora è funzionante però non è compatibile con il segnale digitale terrestre di ultima generazione. In questo caso il cliente deve comprare un decoder digitale. Di decoder digitali ne esistono fondamentalmente un paio di tipi, il classico modello box oppure il modello tipo stick che si inserisce dietro il televisore e permette di evitare problemi di spazio, di ingombro e rimane più compatto e meno visibile. In questo momento andiamo a vedere con un decoder digitale terrestre DVB-T2 con HEVC10 che è il nuovo sistema di compressione. Ci permette innanzitutto di verificare tramite il nostro televisore andando a selezionare il canale 200. Se viene fuori questa schermata di test ci dà la conferma che il nostro televisore è già compatibile quindi non abbiamo bisogno di comprare il decoder esterno o un televisore nuovo. Nel caso questa schermata non venga fuori allora dobbiamo collegare il nostro decoder esterno e procedere con la ricerca dei canali. Anche nei decoder la procedura è abbastanza semplice perché entrando nel menu dell'apparecchio andiamo innanzitutto a vedere che è già indicato l'ordinamento dei canali per LCN e entrando nel menu di ricerca dei canali anche qui si va a eseguire la ricerca automatica. Tutti i decoder come abbiamo detto prima per il televisore procedono a effettuare la scansione automatica dei canali in base a tutte le frequenze del digitale terrestre e una volta trovati i canali a ordinarli automaticamente secondo quello che è il sistema di numerazione nazionale. Per la prima volta ci sarà una donna alla presidenza della CIA, Associazione degli Agricoltori della provincia di Pesaro Urbino. Si tratta della fanese Sabina Pesci, eletta nell'assemblea tenutasi all'hotel Baia Flaminia Resort e che potrete approfondire in uno speciale che Rossini TV trasmetterà venerdì 25 marzo alle ore 21 e 20. Intanto però ascoltiamo le prime dichiarazioni della nuova presidente raccolte da Antonio Astuti. Innanzitutto ringrazio a tutti quanti mi hanno sostenuto. Cosa ci sarà nel futuro ancora non lo sapremo anche perché le condizioni non è che sono tra le migliori in questo momento però vogliamo essere positivi. Noi come agricoltori abbiamo un ruolo fondamentale in questa ripresa ma soprattutto siamo chiamati a dare delle risposte ai cittadini sia per quanto riguarda il cibo sano sia per quanto riguarda l'ambiente. Comunque sia siamo custodi dell'ambiente e sono gli agricoltori che mantengono il territorio, questa zona comune, questo bene comune che è il territorio, sono gli agricoltori che lo sostengono e lo mantengono. Quindi quello che noi chiediamo alle istituzioni è un impegno maggiore per far sì che questo sia sempre più bello, sia un punto di riferimento dal punto di vista turistico per tutta la regione ed inoltre un impegno ancora più importante per le zone interne perché sono zone bellissime dal punto di vista turistico ma hanno bisogno di tanto e gli agricoltori vanno sostenuti. È partito questa mattina il progetto che prevede a Pesaro l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza nell'ambito dei cosiddetti PUC, progetti utili alla collettività. Si tratta di progetti di pulizia della città organizzati da comune, servizi sociali e marche multiservizi che coinvolgeranno chi percepisce il reddito di cittadinanza impegnandolo per 12 mesi in turni di lavoro. Oggi sono state coinvolte le prime due persone nelle pulizie del parco Miralfiore e del monumento alla resistenza. Sempre più all'avanguardia l'istituto scolastico della Rovere di Urbania dopo la donazione di 25 computer di nuova generazione funzionali a tutti i laboratori collegati ai corsi di meccanica. Si tratta di un'operazione finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro con un contributo di 26.000 euro. Nuova attrezzatura e nuovi spazi inaugurati oggi alla presenza del presidente della provincia, Giuseppe Paolini, e del dirigente scolastico provinciale, Alessandra Belloni. Un mese fa vi abbiamo annunciato i nomi di Nicola Alaimo, Michele Campanella e Roberta Pedrotti come i vincitori del Pesaro Music Awards 2021 promosso dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Un premio che domenica 27 marzo alle ore 18 verrà celebrato con un concerto al Teatro Sperimentale in cui Alaimo si esibirà in celebri arie rossiniane, mentre le note di Mozart risuoneranno dal pianoforte di Campanella. Ed ora andiamo a parlare di sport e andiamo a conoscere un nuovo campioncino del nostro territorio. Lui si chiama Gianni Brigidi, ha appena 14 anni e rappresenterà l'Italia, ma soprattutto Pesaro, e il circolo velico Ardizio ai prossimi mondiali di vela, in programma in Francia. Una missione sportiva che è stata presentata oggi in comune a Pesaro. A luglio, dal 18 al 23, presso il lago di Carcans, nel distretto di Bordeaux in Francia, si svolgeranno i mondiali di vela e a rappresentare l'Italia, ma soprattutto Pesaro, ci sarà un giovane di 14 anni. Si chiama Gianni Brigidi, è attualmente 17esimo nella classifica nazionale della categoria Open Skiff, ma la sua ambizione è quella di arrivare in alto. Sono mondiale per cui mi sto allenando da mesi e mi continuerò ad allenare fino a luglio. Sono molto importanti anche perché quest'anno sarà il mio ultimo anno in questa categoria e spero di portare degli ottimi risultati. Magari anche arrivando in un podio. La categoria si chiama Open Skiff, Open è la barca con cui vado, Skiff sarebbe la categoria. Io faccio parte dell'Under 17 perché è divisa in età, c'è l'Under 15 e l'Under 17. Quest'anno io sono all'ultimo anno di Under 17 e poi dovrò cambiare categoria. Si svolgerà questo mondiale in un lago alla Rochelle, se non sbaglio, a ovest della Francia, che si affaccia poi sull'Oceano Atlantico. Questa passione, come ho detto in precedenza, è nata sin da piccolo, però per la regata è sorta quando avevo 11 anni al Circolo Velico Ardizio e ho iniziato a fare dei corsi di vela, mi sono piaciuti. La mia prima esperienza con una regata è stata nel 2018 e come esperienza è stata molto entusiasmante, quindi ho deciso di continuare questo percorso. È una bella opportunità per una città che crede nella vocazione sportiva e vuole dare visibilità a tutti gli sport. Siamo una città di mare ed è giusto promuovere e sostenere anche tutte quelle attività legate al mare. In questo caso parliamo di un giovanissimo atleto che sta per partire per i campionati del mondo di vela che si terranno in Francia. Quindi le istituzioni sono vicine a lui, la città è vicina a lui, e anche i tanti sponsor e i tanti circoli velici che erano qua alla presentazione di questa bella iniziativa, di questa bella opportunità di visibilità anche per la città di Pesaro. E allora davvero complimenti in bocca al lupo a Gianni Brigiti. Adesso invece andiamo a parlare di Tal Service perché c'è un grande appuntamento sportivo domani in diretta su Rossini TV con i quarti di finale delle Final 8 di Coppa Italia di calcio a 5. Appuntamento quindi alle 18.30 con l'Ital Service Pesaro che a sasso maggiore terme se la vedrà con il Ciampino Aniene, miglior attacco del campionato. La squadra del presidente Pizza arriva all'appuntamento delle Final 8 da detentrice della Coppa. In caso di vittoria l'Ital Service incontrerebbe sabato la vincente di Matera Pescara. L'eventuale finalissima sarà domenica alle 18.25 e dunque forza Ital Service e appuntamento a domani alle 18.30 con la diretta di Rossini TV. E adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta nella nostra TV con la programmazione a partire da questa sera in via del tutto eccezionale. In diretta alle 21.20 trovate insieme a Canestro. Gli ospiti di questa sera sono Franco Arceci, nuovo presidente del consorzio Pesaro Basket e Giorgio Secondini, ex allenatore della VL. Potete commentare in diretta, mi raccomando, al numero di Whatsapp che state vedendo sullo schermo oppure commentando sotto la diretta Facebook. Domani alle 18.30 appunto vi ricordiamo che trasmetteremo Ital Service Pesaro e Ciampino Aniene, quindi una partita da non perdere. E venerdì 25 marzo trasmetteremo dal Duomo di Pesaro la Santa Messa e la preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e Ucraina per chiedere il dono della pace in collaborazione chiaramente con il Monsignor, l'Arcivescovo Piero Coccia. E invece domenica 27 marzo le nostre telecamere saranno presenti all'interno della parrocchia San Carlo Borromeo. Siamo in Vianitti ma voi potrete vederci anche a casa in diretta alle 11.15 oppure in replica alle ore 18. E allora restate in compagnia di Rossini TV questa sera e anche domani mattina. Vi aspetto infatti alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata! Grazie!